Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma ragazzi è una roba patetica, c'è Alexi sta lavorando e è uscito dalla stanza della regina e è andato nell'altra casa a scopasso di Anna Letteralmente! Questa è stata la scena, la scelta sarà dove ti siedi, ok? Chiudiamo gli occhi due di tre per favore ragazzi un po' di ho in chat No no no, guardo io, guardo io No, tu sei provato con un altro Venuto! No, scusa Mi hai fatto scappare tu solito Scusate! Ma non mi hai capito il nome del genere Ma io sono stato con quattro persone in tutta la mia vita e non ce la faccio più Qualcosa è bella? No, grazie Ma c'è... Veramente, veramente bella Un bel 9 su 10 Va che porco che sei Sei un porco Possibilmente dobbiamo aggiungere il cuore Sì, certo Vedi Che schifo, ora come la prendo? Vieni, vedi? Allora, io perco il numero di telefono Allora, scrivi un attimo il tuo numero che almeno dopo, così posso ritrovare il mio numero di telefono Gentilmente Non vale Non vale Non vale Non vale Tieni Ma poi che ora circa così ti giuro fai stra schifo Ma in quale stava a rimorchiare? Non su alza Va Non prende Pronto? Grazie bro, grazie Grazie Dovreste chiarire voi Dovreste chiarire voi prima di chiarire io Ma quello che... Tra me e Andrea non c'è nessun problema eh Secondo me uno dei due è triste Ma... Ma... Hai visto eh? Davanti ai tuoi occhi Il verme Tre verme abbiamo eh Che schifo che fate Mi hai chiesto il rosso Ma giusto Non scambio di beni questo qua Ok Comun che... Oma... Pfff Pfff Ma allora ci sono l'ho guardato Grazie Ma questo non è più fidanzato Ma comunque basta Ma non posso di nulla? Ma non posso di nulla? Tu dici di essere fidanzato tutto e stai guardando... Sporricola... Non a te Cioè no no scusa Alexi No... Bellezza Fama e soldi Ok? Questa è la scelta Non dico chi ha C'è anche chi sceglie? C'è anche chi sceglie? Mamma che schifo Miletti Eh... Che stavamo dicendo? Ok puoi uscire grazie Quasi non faccio Quasi non faccio Dove devo dare un bacio? Non c'è un bacio Non c'è un bacio Un bacio Poverino Mi ha diffusato! Aiuto Tre Quattro Cinque Sette Sette Aut Years Sette Ok adesso abbraccialo — No no! — Non hai toccato! Non hai toccato! Non hai toccato metropolitanO Abbiamo dicendo, abbiamo di certo, aspetta un attimo, Omar cosa stai facendo? Di certo aspetta un attimo, vale una storia bellissima da raccontare, Omar, aspetta che Omar non riesce a captare due o tre cose Omar sta vivendo la sua vita in questo momento Omar, oh, aspetta, Omar fuori, no eccomi, no sono qua Comunque, secondo voi, indipendentemente da questo, aver baciato la più figa dell'Octoberfest per un content, nonostante comunque ci fosse una conoscenza avviata con un'altra ragazza, ci sta o no? Mi sta facendo, ciao Ciao, buonasera Ciao E mi hanno detto che ci ti hai lasciato, il momento che ci ti lascio è il momento che mi finanzo Vedi come la vita è un po' estraneo, non sono finanzata due settimane a parte Dove si percazzi, Gianni? Non carino di acqua Superato, 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 dai, basta Ok, grazie, grazie, gentilissima Mi sto ammazzando Vai, dice la stanza, vai da lice Anzi, vai da lice, scusami, puoi andare a raccontare la cosa che c'è da lì? Omar Eh, però no, sosia deve essere anche sosia della città Omar, dai un consiglio al Omar del passato Mi raccomando, credi sempre in tutto Perfetto Omar, ti salutiamo perché è veramente una frase di merda Comunque, Wax, stavano dicendo, io l'altra volta ti avevo lasciato con una domanda Ciao ragazzi Andatevene fuori dai coglioni che avete rotto la minchia, per favore, porca di quella puttana Avete rotto il caccio, per favore Oh, porca puttana Dimmi, bro, dimmi, dimmi Ok, no, stavo dicendo, l'altra volta ti ho lasciato con una domanda Tu conosci Arisa, mi avevi detto, giusto? Aspetta, bro Mattimo, ha fatto la collana al tipo? Sì Non è vero? Stavo, bro Non hai fatto la collana Ma l'avete presa voi? Io ti voglio scopare, poi mi fai mai avere un bel bocchino No No Esci e vieni L'ha fatto Ah Sei simpatico Tutto per Cristo Fai esci, non fai persi Lentamente Sianino, sianino Vieni No Dai, un abbraccino Ci apprezziamo più a me Visto che è sparita per tre mesi Fatto bene Bene? E perché l'ho sentito qua stasera? Ah, per chiarire Ah, per chiarire? Bella, ti si è No, non volevo Bella estate, tre mesi No, no, no Ah, sei una di quelle No, non l'avete presa Una di quelle Non è andata così Non si può fare Ti chiediamo di abbandonare per favore Gentilmente Io? Sì, sì, è bannabile Sei bannabile Io sono bannabile? Sì, sì, sei bannabile Perché non è andata, non ti preoccupare No, non tu Ma ma ti no Io sono bannabile No, 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 no No, no, perché è un'altra sfida Ti ho sbagliato sfida Allora, subito Ti ho tenuto lo spot Ti ho chiesto di fare lo spot Ma dai, ma non è divergente così C'è una l'hai balsata Va